Ancora numeri altissimi quelli relativi alla pandemia di coronavirus in Puglia. Dopo la cifra record di ieri, con oltre 2.000 casi registrati, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.785 nuovi contagi a fronte di 11.636 test effettuati con un tasso di positività pari al 15,3%. Questo secondo i dati forniti dal bollettino aggiornato diramato dalla regione. Dei casi di oggi, 652 si riferiscono alla provincia di Bari, seguita da Taranto con 315 e Foggia con 270. 239 contagi riguardano invece il territorio di Lecce, 154 e 147 sono quelli attribuiti al Brindisino e alla Bat, ai quali se ne aggiungono 7 di provincia non nota e un residente fuori regione. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Puglia da quando è cominciata all'emergenza sanitaria raggiunge così la soglia dei 173.000. Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei decessi con altri 27 morti registrati in un solo giorno, 10 nella terra di Bari, 6 nella Bat, 5 in provincia di Taranto, 3 in quella di Lecce, 2 nel Foggiano e 1 nel Brindisino. Le vittime pugliesi della pandemia toccano adesso quota 4.421. Continua a salire il dato riferito agli attualmente positivi che adesso sono in tutto 41.170, 663 più di ieri e torna ad aumentare, dopo una tregua di 24 ore, anche il numero dei pazienti che si trovano nelle strutture sanitarie. I ricoveri salgono a 1.844 più 43 rispetto al precedente bollettino, di cui 214 in terapia intensiva. Unica nota positiva quella relativa ai negativizzati che raggiungono la cifra totale di 127.409. Tra ieri e oggi i pugliesi guariti dal virus sono quasi 1.100.